L'evento è stato un evento severo, c'è questa magnitudo, questa profondità, sono terremoti che in genere nei nostri territori creano crolli e creano, evidentemente possono creare come ha creato in questi casi certamente decessi. E' ovvio che, come diciamo, purtroppo tante volte anche in tempo di tregua o di pace i decessi sono fatti dal crollo delle costruzioni, quindi da quello che noi abbiamo dal territorio i crolli ci sono stati, ci sono dei paesi che sono stati colpiti molto duramente e poi chiaramente il bilancio diventa poi puntuale rispetto al crollo, a chi ci abitava dentro, al fatto che in questo momento c'è un turismo abbastanza importante in queste zone rispetto ad altri periodi dell'anno. Ci sono stati in particolare Amatrice ed Accumuli, che sono i due centri un po' più grandi che sono stati raggiunti e particolarmente colpiti, Accumuli in particolare ha avuto una difficoltà di raggiungimento in un primo momento che adesso è stata superata. Con i sindaci di queste zone stiamo facendo la verifica anche delle frazioni, perché là sono anche molte abitazioni sparse, quindi certamente ci saranno delle situazioni ancora isolate, però non ci risultano centri con un'elevata densità isolati. Ora i centri più importanti sono stati raggiunti, certamente ci possono essere delle situazioni locali in cui ancora non ci si è arrivati, ma questo è il lavoro che si sta facendo sul territorio dove appunto io mi recherò a breve. Questi eventi importanti e drammatici devono essere gestiti tenendo conto delle fasi separate. C'è un soccorso tecnico urgente che è destinato alla tutela, alla salvaguardia delle persone e quindi questo è ancora in atto con il Corpo Nazionale di Vigile del Fuoco, con le strutture operative, con tutti quelli che la parte sanitaria intervengono per salvare le vite umane, per estrarre e quant'altro. Ovviamente questo è complicato dalla inaccessibilità di alcune zone, dai crolli sulla viabilità, sull'agibilità di alcune viadotte e ponti, insomma quella difficoltà che si può immaginare in questi casi. A fianco a questo lavoro c'è un lavoro invece di pianificazione relativamente all'assistenza alla popolazione, sappiamo che ci sarà delle persone che chiaramente hanno perso la propria abitazione e anche alcuni che le avranno lesionate e altri che avranno psicologicamente necessità in questo momento di non essere dentro la propria abitazione e quindi si sta lavorando con il Sistema Nazionale di Protezione Civile anche per l'assistenza alla popolazione. Abbiamo informato subito i vertici politici, questa è anche una nostra caratteristica del Sistema di Protezione Civile, una catena molto corta, quindi il Presidente del Consiglio, il Sottosegretario De Vincenti ma anche molti ministri sono assolutamente stati informati e quindi abbiamo anche l'informativa all'autorità politica che certamente è importante.